Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Ilari Blasi adesso è pronta a tremare. Il colpaccio di Totti a pochi giorni dagli accordi legali cambia ogni cosa tra loro due Ilari Blasi ha deciso di godersi un bel periodo di vacanze dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti Il periodo di relax purtroppo però sembra essere giunto al termine in quanto i due tra qualche giorno dovranno incontrarsi per smaltire tutta la burocrazia e le pratiche del divorzio Per questo motivo entrambi hanno bisogno dei propri legali, e se lei ha scelto di affidarsi ad Alessandro Simeone, l'ex capitano della Roma, ha puntato tutto su Antonio Conte, ma nelle scorse ore, come riportato da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 Lui ha deciso di giocare di anticipo sperrando una mossa del tutto inaspettata, e che potrebbe cambiare ogni cosa Ilari Blasi ha iniziato a tremare perché il suo futuro ex marito ha intenzione di fare sul serio Colpo di scena di Francesco Totti, per Ilari Blasi potrebbe mettersi male Ilari Blasi, che sembrerebbe essere pronta alla vendetta, di tutto si sarebbe aspettata poco prima del loro incontro con i legali tranne probabilmente che Francesco Totti, avesse scelto un secondo avvocato a rappresentarlo e attenzione, non ha di certo chiamato uno qualunque, ma Anna, Maria Bernardini de Pace, una garanzia in questo settore Per la conduttrice dell'Isola dei Famosi, le cose potrebbero non mettersi affatto bene, anche se in base alle udienze precedenti è possibile dedurre che la De Pace spinga sempre i suoi clienti a trattare, per una separazione consensuale, mettendo al centro di tutto gli interessi dei figli e no dei due coniugi Questo aspetto sembrerebbe essere quello che lega Ilari e Totti che hanno sempre voluto mettere al centro di tutto i tre figli nati da questa unione Alessi però ha sganciato un'altra bomba rivelando che in base ai piani della nuova rappresentate di Francesco, la Blasi potrebbe non vivere nella lussuosa villa a Leur, in quanto lei predilige che i figli restino nella propria abitazione, mentre i due coniugi si alternino per affiancarli nella vita di tutti i giorni Francesco Totti ha sferrato il colpaccio prima della separazione, e senza dubbio vuole fare sul serio Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace, e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti